L'onda colorata che Trieste ha conosciuto nel corso degli anni veder sfilare da Miramare al centro città nei primi giorni di maggio torna dopo due anni di stop. E non a caso la t-shirt scelta per l'evento è color verde, un verde acceso che vuol dire speranza. Al circolo della stampa è stata presentata la Trieste Spring Run, l'evento che prende il testimone della Bavisela e della Miramar e che riporterà atleti nazionali e internazionali sulle strade della provincia di Trieste per competere nella mezza maratona da 21 km dalla piazza centrale di Eurisina al canale di Ponte Rosso. Accanto alla gara agonistica tornerà dopo due anni di assenza a causa Covid la Family Run, la passeggiata, corsetta, camminata, pattinata di tutti coloro i quali vorranno passare la mattinata dal bivio di Miramare fino a Ponte Rosso nel percorso non competitivo. Ma l'evento non è concentrato soltanto domenica 8 maggio, la data di questi due appuntamenti. Ci sono come sempre anche gli spazi dedicati alle scuole e la novità, la corsa degli eroi. Sarà una family un po' più carica di musica, un po' più carica di spettacolo perché cercheremo in tutte le maniere di coinvolgere il numero di persone a questo tipo di manifestazione. Teniamo presente poi che il sabato precedente alla gara che si svolge l'8 maggio ci sarà una sfilata di persone mascherate perché c'è questa famosa corsa degli eroi che sarà un momento anche là gogliardico e molto colorato all'interno della città. Non dimitichiamo il giorno 5 in Piazza Unità invece la manifestazione per le scuole elementari e per l'ultimo anno delle scuole materne. Un evento che vuole tornare con forza nelle agende annuali degli appuntamenti della città. Prova ne è la partecipazione di molte realtà pubbliche e private che apportano un contributo. Il Comune, la Regione, le Generali, Accegas, APS e AMGA, la Trieste e i Trasporti per non parlare del gran lavoro che hanno svolto i componenti dello staff organizzativo. La Bavisela ritorna in auge, sappiamo che ha avuto momenti di difficoltà ma adesso sarà un collettore di partecipazione eccezionale. In un anno, quello del 2022, che anche per quello che riguarda la città sarà ricco di eventi non solo sportivi, ne annunceremo presto anche altri importantissimi ma anche culturali.